Ciao a tutti! Ho provato a registrare questo video ma purtroppo non mi ha registrato l'audio, quindi mi sentirete in voice over. Ho finito e ho terminato finalmente questo diamond painting di Natale. Come vedete anche sulla barba c'è un oh 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 da Babbo Natale che mi piace tantissimo. E la cosa che ho notato e mi piace più di tutti gli altri è che i diamantini sono veramente tutti diversi uno dall'altro. Questa cosa mi è piaciuta molto perché è stato veramente bellissimo realizzarlo. Oggi vi farò vedere come andare a incorniciarlo. Come vedete questa è una misura di 30x40 ma è una misura fasulla perché se andiamo a vederla è di 25x35. Ho fatto anche un video a questo proposito e sono andata a prendere una cornice appunto di queste dimensioni e oggi vi mostrerò come andare ad incorniciarlo. Ok, spero che da questa angolazione si possa vedere meglio. Sono in attesa di un altro octopus, quindi abbiate pazienza. Vado a prendere la mia cornice e tolgo quella che è la mia copertura. Dopo aver torto tutte le parti dietro, quindi il compensato, la carta, mi accorgo che non è una cornice in vetro, bensì è fatto con il plexiglass, non era scritto da nessuna parte. Vado a togliere tutte le parti laterali, quindi prendo misura con la mia carta che è all'interno della cornice e vado a togliere tutte le parti laterali che non mi servono più della tela. Una volta che la tela è pronta possiamo incorniciarla, quindi prendiamo la nostra cornice, togliamo e spellicoliamo il nostro plexiglass e andiamo a mettere la tela. Sappiate che alcune tele se le trovate molto molto stropicciate date una stirata sul retro, quindi torneranno come nuove. Inserisco la carta, vado a mettere al centro il cosino per il chiodo e vado a terminare con il mio compensato. Quindi questo è il risultato finale e mi piace molto. Alcuni diamantini, come vi ho detto, sono di una dimensione diversa, quindi sembra che il quadro non sia appiccicato bene al vetro per intenderci. Però mi piace molto. Questo è, come lo vedete, appeso su una parete. È veramente spettacolare il fatto che sia un diamantini di diverse dimensioni, danno un luccicchio davvero diverso. Mi piace molto molto. E anche il fatto di aver acquistato, per sbaglio, una cornice che non abbia il vetro ma abbia il plexiglass lo rende molto molto leggero. Quindi ve lo consiglio a questo punto. Compratelo con il vetro in plexiglass. Detto questo, spero che anche voi andrete ad incorniciare i vostri diamant. Se ci riuscite, fatemi sapere. E io vi abbraccio e ci vediamo alla prossima.